L'uomo che non deve chiedere mai, è un principio, la moglie dice senti ma tu non sei mai venuto in questo teatro, chiediamo alle maschere, vediamo dove ci dobbiamo sedere, no, pieno con me. Celebriamo un grandissimo poliedrico per eccellenza, d'annunzio, con un poliestere, poliedrico come d'annunzio, con un poliestere come te Martino. No vabbè, stare all'interno di un festival così, diciamo, illustre mi mette quasi in imbarazzo, quindi ho cercato di non pensare ad annunzio, abbiamo fatto quello che facciamo noi di solito, cioè i cialtroni con tanta musica, però musica di altissimo livello perché ero accompagnato da fior fior di musicisti questa sera. Sono sempre nel pubblico perché solitamente io vengo a vedere i miei amici comici, gli artisti, no? E quindi dico parto da qui, che è il posto che mi è più congeniale, dico parto proprio dal pubblico, così li guardo, mi tranquillizzo, o no? Grazie!